Prima di iniziare il primo capitolo con gli argomenti che tratteremo, riesco a farvi vedere adesso il sito che prima non era raggiungibile, su cui c'è, come dicevo, tutte le informazioni che vi servono, così vi do anche un altro paio di indicazioni pratiche. Allora questo è il sito a cui si arriva da quel link che trovate sulle slide che c'è sul gruppo Telegram. Nella prima pagina c'è qualche informazione di base, completo il link per iscriversi a Telegram, chi non l'avesse ancora fatto. Insisto molto su Telegram perché mi sembra un modo più semplice di contattarsi che non mandarsi le mail e soprattutto perché la risposta a uno la possono vedere tutti. Non siate timidi nel condividere le cose, quindi se avete domande, se avete richieste di informazioni, scrivete liberamente. Io metterò anche poi lì vari link ai vari materiali che via via produrremo, ma li trovate comunque sempre tutti su questa pagina, solo per tenerci un po' collegati. Poi in questa pagina c'è una voce calendario, una sezione calendario in cui tengo aggiornato il calendario delle lezioni. Quindi oggi è il 28, c'è la lezione 1, introduzione, con le slide corrispondenti, quella che abbiamo visto prima e poi ci sarà la lezione 2, che è quella che stiamo per iniziare, dove ci sono le slide corrispondenti, a volte ci sono dei file da scaricare a fianco, in questo caso ci sono gli esempi collegati alle slide. Queste slide qua le useremo anche per lezioni successive, quindi io il materiale lo metto la prima volta che lo usiamo, poi da lì in avanti chiaramente può essere utilizzato. Questo materiale è comunque già tutto disponibile fino alla fine del corso, qua nella sezione materiale, dove ci sono le slide per tutto il corso, non credo che le cambieremo, sono state riviste già rispetto all'anno scorso, quindi dovrebbero essere relativamente stabili. Poi nella sezione calendario metterò anche dei link ai video, alle registrazioni delle lezioni, che via via faccio, quindi dopo la lezione datemi tempo di prendere un panino, poi vado in ufficio e ve lo carico. In questa settimana vi ho caricato anche dei video aggiuntivi di lezioni da guardarvi per conto vostro, perché abbiamo perso lunedì, la lezione di lunedì l'abbiamo persa e in più questa settimana non ci sono i laboratori. Quindi per non farvi fare troppe poche ore di informatica, che fa male alla salute, vi ho messo questi due video che sono comparsi durante l'intervallo, che sono brevi, quarta d'ora, venti minuti ciascuno, che vi danno un'idea un po' generale di cosa sia Python e soprattutto quest'altro, informazioni pratiche, l'esame, gli orari, le modalità d'esame, eccetera, eccetera. Quindi questo lo ascoltatelo e poi sicuramente a ridosso dell'esame lo riescolterete. E poi ci sarà questo altro video come lezione aggiuntiva sui diagrammi di flusso che non facciamo in aula, li prenderemo poi in pratica facendo esercizi la settimana prossima, che anche questo dopo le ore 14.30 comparirà, lo potete guardare. Quindi vi chiedo per la settimana prossima di guardarvi questi tre video extra, oltre a quelli che sono lì, sono indicati semplicemente come video e non come lezione, perché sono in aggiunta rispetto alle lezioni che c'erano ovviamente ciascuno nel proprio video. Poi c'è una colonna esercizi nella quale metto gli esercizi che facciamo insieme in aula. Ad esempio qua c'è un pdf che è l'esercizio che ho fatto dentro questo video, ovviamente non è fatto in aula, è fatto in video lezioni. Per esempio qua dentro ci metterò poi i file su cui abbiamo lavorato oggi, vi ho fatto vedere oggi sull'elenco degli iscritti e così via. Quindi la parte degli esercizi sono gli esercizi che normalmente facciamo insieme in aula, così vi li potete riguardare. Poi tutti questi esercizi sono anche disponibili, se andate sul materiale tutto raccolto, ci sono già le video lezioni, quelle che sono comparse, diciamo così, le due intermedie. E volendo c'è un sito che è indicato qua sotto con esercizi svolti in aula, che oltre ad essere linkati a fianco della settimana in cui sono stati tenuti, io di solito faccio uno zip per settimana, quindi alla fine del mercoledì faccio un file che raccoglie tutti i esercizi che abbiamo fatto, ma li trovate già in tempo reale su questo sito qua, che è un sito esterno, si chiama GitHub, dove già si è scritto settimana 1 e ci sono gli esercizi della settimana 1 da guardare o scaricare. Quindi è lo stesso materiale a cui potete accedere in modalità diverse. E poi nella sezione laboratorio, idem, compariranno poi i testi e le soluzioni dei laboratori, venerdì pubblicheremo il testo del laboratorio della settimana prossima. I turni di laboratorio li definisco lunedì prossimo, in modo che aspettiamo ancora qualche giorno che l'elenco si stabilizzi, poi vi dico in quale dei tre turni dovete venire, sulla base dell'ordine alfabetico per cognome. Ok, questa è un'informazione, l'altra informazione che volevo darvi, che prima non è stata prima dell'intervallo, dopo questa rivelazione, volevo solo spendere due parole su cosa c'è dopo questo corso in termini di informatica. Allora io qua ho provato a riassumere tutti i corsi che ci sono nelle triennale del Politecnico di tipo informatico, quindi fatti dai docenti di informatica che siano in qualche modo la prosecuzione di questo. Qui vedete che ci sono, oltre a questo ovviamente, chi di voi fa informatica nel secondo semestre avrà un insegnamento che si chiama tecniche di programmazione, da sei crediti, al secondo anno ci saranno questi tre corsi, algoritmi e strutture dati, base di dati e calcolatori elettronici, al terzo anno ci sono questi quattro corsi più alcuni dei crediti liberi che si possono scegliere dal terzo anno, alcuni di questi hanno, diciamo, contenuti di tipo informatico. Chi fa ingegneria del cinema nei mezzi di comunicazione ha anche un sotto insieme, in realtà qui sembra che siano tre nel terzo anno, ma in realtà sono quattro perché il computer grafico è un corso doppio annuale e il corso di algoritmi e programmazione è molto simile a questo, chiaramente c'è un po' meno perché chiaramente si sviluppano su altre. Gli ingegneri gestionali hanno tutti i basi di dati al secondo anno, qui non ci sono ingegneri di gestione in quest'aula, quindi me lo dico, e al terzo anno il gestionale è diviso in due metà, il gestionale per l'ingegnere dell'informazione e il gestionale per l'ingegnere industriale, quelli che sono della classe credetta alle otto, hanno anche questi altri tre corsi nel terzo anno. Poi c'è un po' di informatica per chi fa ingegneria elettronica, quindi avrete algoritmi di programmazione al secondo anno, che è un po' un mix di questi due corsi che fanno gli informatici, condensati in uno, poi gli elettronici hanno deciso che non vi serve l'altra informatica, e invece per chi fa ECE, forse non siete qua perché sono tutti in inglese, avranno invece un corso analogo ma messo al terzo anno, quindi se vi interessa la materia sapete che cosa vi può aspettare negli anni successivi in funzione del corso di laurea a cui siete iscritti o a cui vorrete scrivere. E dopo, quindi dopo la fine della triennale, sempre a chi interessa, diciamo così, gli argomenti percorsi di tipo informatica, noi abbiamo quattro lauree magistrali gestite nel nostro settore, una è la laurea magistrale in ingegneria informatica, che è forse una delle lauree magistrali più grandi al Politecnico, sono circa 450 iscritti quest'ultimo anno, che è divisa al suo interno in sette orientamenti diversi, in sette specializzazioni diverse. Chiunque abbia fatto uno di questi corsi di laurea, che sono della categoria L8, tra cui ovviamente informatica, elettronica, gestionale, cinema, eccetera, può iscriversi senza debiti, senza fare corsi aggiuntivi, semplicemente in automatico, finita la triennale si può iscrivere a una qualunque di queste lauree magistrali. Chi invece provenisse da altri tipi di lauree potrebbe essere necessario un percorso integrativo, un semestre in più, in cui se uno ha fatto magari prima civile o meccanica, non riesce poi a iscriversi a una magistrale di informatica. Poi abbiamo la laurea magistrale di ingegneria del cinema, che ovviamente la laurea magistrale di ingegneria informatica è pensata come la prosecuzione di ingegneria informatica, ma è, dicevamo, accessibile a chiunque abbia fatto uno di questi percorsi, idem per l'ingegneria del cinema e la continuazione dell'ingegneria del cinema, ma puoi arrivare anche da elettronica, puoi anche arrivare da informatica se ti interessa questo. C'è una laurea nuova, relativamente nuova, nel senso che è solo da tre anni, due o tre anni che c'è, che si chiama Data Science and Engineering, che anche questo è in qualche modo uno spin-off che è arrivato dall'ingegneria informatica, che si è espansa molto nel dominio della Data Science e dell'intelligenza artificiale, quindi si è stata creata una laurea magistrale specifica, in cui ci sono queste materie e ovviamente c'è meno conoscenze di hardware, ci sono più conoscenze anche un po' di matematica e statistica che sono fondamentali in questi domini, adesso ci sono circa 120 studenti all'anno, quindi è abbastanza, diciamo, c'è una laurea in ingegneria meccatronica, che è un po' un punto di convergenza tra l'informatica e l'elettronica e la meccanica e poi non l'ho potuta scrivere qui perché non è ancora ufficiale, ma è in preparazione e sicuramente quando ci arriverete voi ci sarà già perché è prevista per il 23-24 l'attivazione, una nuova laurea magistrale in Cyber Security, in sicurezza informatica, che è di fatto adesso all'interno dell'ingegneria informatica c'è un orientamento, un indirizzo in Cyber Security che è uno degli indirizzi più scelti dagli studenti e quindi abbiamo pensato di prendere quell'orientamento, non farlo più solamente come un pezzo di informatica ma fare una laurea a parte, separata, quindi quando dovrete scegliere la magistrale avrete, se non ci capita nulla, se siete tutti in buona salute, 5 lauree diverse sul tema informatico tra cui poter scegliere. Non è ovviamente una cosa che dovete decidere domani mattina, però ci tenevo a darvi un pochino la panoramica piano avanti al di là delle cosettine che facciamo qua in cui mettiamo semplicemente le basi per quello che verrà dopo. Se qualcuno ha dubbi o domande su queste cose ci contatti pure liberamente in qualunque momento. Ok, dette queste cose più di tipo organizzativo o generale. Proviamo a iniziare un pochino a vedere questo capitolo P1 che è un capitolo ancora così interlocutorio che cerca di spiegare un po' in modo più ordinato quello che ho cercato di farvi percepire in modo un po' più forse anche emozionale nell'ora precedente. Quindi cercheremo di capire proprio qualche nozione minima di come funziona il calcolatore e che cosa sono questi algoritmi famosi di cui sentiamo parlare per poi la settimana prossima invece iniziare poi con il linguaggio Python vero e proprio. Allora, non si può parlare di informatica se non si parla dello strumento su cui l'informatica si basa, cioè l'elaboratore. Il calcolatore, il computer, chiamatelo come volete, il nome corretto in italiano è sistema di elaborazione. Torniamo pure computer, va bene lo stesso. Non facciamoci ingannare perché il computer non è solo il laptop che avete sulla scrivania ma anche il tablet, ma anche il cellulare, ma anche molto probabilmente il telecomando del cancello che avete o quello del televisore o la chiavetta per guardare Netflix o cose varie. sono tutti sistemi di elaborazione di forme e funzioni diverse, ma che sono basati sugli stessi principi. Quindi non pensiamolo solamente al computer. E cosa fa l'informatica? L'informatica lavora con l'informazione. Quindi noi studieremo sistemi in grado di rappresentare l'informazione, ricordate l'elenco degli studenti di prima, è una rappresentazione possibile di una certa informazione, l'informazione è una cosa astratta, lì la concretizziamo in un certo modo, la rappresentiamo in un certo modo e poi la manipoliamo, cioè a partire da un certo insieme di informazioni facciamo dei calcoli, delle elaborazioni, degli confronti, degli ordinamenti, eccetera, in modo da ottenere dei risultati diversi. Quindi si manipola, si elabora informazione per ottenere altre informazioni. L'informazione può essere informazione testuale, numerica, grafica, di varie tipologie, video. Quindi se vogliamo banalizzare la cosa all'osso all'osso, il computer, che cos'è? È una macchina in cui entrano informazioni ed escono informazioni, possibilmente diverse, se non faccio uscire le stesse cose che già sapevo, cose nuove, e attraverso un processo di elaborazione delle informazioni stesse. La macchina ha la capacità di fare queste trasformazioni. Il ruolo del programmatore, dell'informatico, è quello di insegnare alla macchina quali elaborazioni fare sui dati che ha a disposizione. Quindi il computer, quando lo accendete, non sa fare nulla. Potenzialmente può fare qualsiasi cosa, ma finché non gli dite cosa fare, non sa cosa fare. E siamo noi che dobbiamo costruire i programmi che dicano al computer cosa fare. Quindi se questo computer prendesse quell'elenco di nomi che abbiamo visto prima, non sa cosa farsene. Cosa deve farlo? Cosa deve fare di quell'elenco? Contare quante righe ci sono? Mettere in ordine alfabetico? Cancellarlo, tanto perché così? No, deve fare quell'elaborazione sulle frequenze dei nomi. Ma gli abbiamo dovuto spiegare, indicare che quella è l'elaborazione che ci serve in quel momento. Ma la macchina poi la fa. Noi non dobbiamo spiegarla e poi farcela. No, spieghiamo e poi il calcolatore la fa. Quindi si separa nettamente il momento in cui si definisce quali operazioni le hanno fatte dal momento in cui queste operazioni vengono eseguite, cioè fatte, svolte dalla macchina. E la macchina ovviamente potrà solo lavorare sui dati che ha ricevuto in ingresso e potrà solo seguire le istruzioni che le abbiamo dato. Non si inventa niente. Segue in modo fin troppo pedante esattamente ciò che le abbiamo detto. Quindi in qualche modo, se ho tre momenti, acquisizione dei dati, elaborazione e presentazione dei risultati, mi dovrò chiedere ciascuno di questi tre momenti come funziona. Come fa la macchina a ricevere dei dati d'ingresso? Come fa la macchina a presentare dei dati in uscita? E come fa la macchina a elaborare questi dati? L'idea di base è che attraverso opportune operazioni di codifica tutte le informazioni che un calcolatore può gestire vengono ridotte a una sequenza di cifre binarie. Cioè cifre che possono valere 0 oppure 1. Quindi un calcolatore in realtà conosce solamente due tipi di informazioni, lo 0 e l'1. Qualcuno ha insegnato al calcolatore, conoscendo solamente lo 0 e l'1, a rappresentare i numeri interi con una certa opportuna operazione di codifica che impareremo, è facile, ma va insegnata. E qualcuno ha insegnato al calcolatore usando i numeri interi come fare a rappresentare le immagini, con i vari pixel e con i vari colori. Qualcuno ha insegnato al calcolatore come fare a interpretare, codificare le sequenze di 0 e 1 per rappresentare dei numeri reali, per rappresentare dei suoni, per rappresentare dei filmati e così via. Quindi alla base il calcolatore è una macchina che è in grado di fare operazioni con i bit. Bit sta per binary digit, quindi cifra binaria, 0 o 1. Un bit da solo rappresenta una quantità di informazione irrisoria, messi insieme tanti bit possono rappresentare dell'informazione più utile. Quindi noi quell'elenco che abbiamo visto prima, il programma ce l'ha fatto vedere così, ma in realtà la M è rappresentata, la M maiuscola è rappresentata da una ben definita sequenza di bit, in particolare in questo caso di 8 bit. La A maiuscola è da un'altra sequenza di bit, altri 8 bit. e ciascuno carattere di questo file è rappresentato da una sequenza di bit, e ciascuna riga, eccetera, alla fine questo file poverino che ha 180 righe, no, 280 righe, mannaggia quanti siete, è codificato da una sequenza molto molto lunga di bit, che va interpretata, decodificata in qualche modo per poter essere visualizzata così. Questa è una delle cose che velocemente vedremo come si codificano le informazioni più complesse sotto forma di un'informazione di base. Però questo ci dà già uno spunto, io devo costruire una macchina semplice, che sia in grado solo di lavorare con 0,1 e poi mi invento dei modi creativi di usare i 0,1 per far sì che la macchina frullando 0,1 in realtà stia, che ne so, riducendo la dimensione di un'immagine. Riconduco alle operazioni fatte sui numeri binari tutte le operazioni che mi interessa fare sui dati che rappresentate in modo, diciamo così, comprensibile per l'umano. Prima abbiamo detto metto in ordine i nomi, in ordine alfabetico i nomi. Ok. Allora vorrà dire che in qualche modo bisognerà, il calcolatore non sa cosa vuol dire un nome, non sa cosa vuol dire l'ordine alfabetico. però c'è una procedura che lavorando sulla codifica binaria di questi nomi è in grado di produrre un'altra codifica binaria in cui gli stessi nomi compaiono in ordine corretto. Questo è complicatissimo e è fatto di vari livelli di varie livelli di astrazione. No, noi ci metteremo un livello di astrazione abbastanza alto per poter programmare. Quindi il calcolatore dentro è una macchinetta che frulla bit, frulla numeri binari. E la macchinetta che frulla i numeri binari la chiamiamo volgarmente ferramenta, hardware in inglese è il negozio di ferramenta. Comparano i viti, i bulloni e i computer. Il ferro del computer è quello che contiene i circuiti elettronici che permettono di elaborare i dati binari. È un po' come una calcolatrice, pensiamo alla calcolatrice quella semplice, stupide, quella che una volta regalavano nel fustino del detersivo. Quella calcolatrice lì è in grado di fare le quattro operazioni, insomma, sottrazione, moltiplicazione e divisione. Però se le accendete, lei è in grado di fare le operazioni, ma non le fa fino a quando qualcuno non pigge sui tasti. Ecco, l'hardware è così, è in grado, è stato progettato, contiene dei circuiti, in grado di fargli fare molte operazioni, ma di per sé nel momento in cui lo accendo non sa che operazioni fare. Le operazioni che l'hardware farà sono dettate, definite, comandate dal cosiddetto software, che è l'insieme delle istruzioni, dei comandi, delle indicazioni che diamo al calcolatore. quindi l'hardware sa fare, ma non sa cosa fare. Il software sa cosa dovrebbe essere fatto, ma lui non è in grado di farlo. Li metto insieme e funziona. Forse. Quindi il software è intangibile, io ho una definizione che mi piace dare che l'hardware è ciò che se cade per terra si rompe, il software no, perché è semplicemente informazione, sono una serie di comandi, ma non è che darti le istruzioni su come si mettono in ordine dei nomi se cade per terra queste informazioni scompaiono, si rompe, no, sono informazioni intangibili, la parte astratta il software. Solopo che poi a sua volta sarà composto di istruzioni e dati, informazioni, ma le informazioni sono proprio quelle su cui le istruzioni devono lavorare, no, non le istruzioni devono lavorare, le istruzioni devono far lavorare l'hardware. e quindi adesso do solo un cenno poi faremo una lezione più avanti che entra un pochino più in dettaglio, no, l'hardware è la parte fisica della macchina e dentro la parte fisica della macchina ci sono degli elementi più importanti degli altri, in particolare c'è un elemento della coglietta CPU che è un circuito dentro il quale avviene tutta l'elaborazione approssimiamolo così poi oggi non è vero con il GPU e con altre cose ma c'è un circuito più importante degli altri che è quello che effettivamente esegue il vostro programma quindi di un computer che pesa non so un chilo e mezzo ci sono quei 20 grammi che sono quelli che fanno l'elaborazione vera e propria però da solo non potrebbe lavorare ha bisogno la CPU che è quello appunto dentro cui avviene veramente l'esecuzione del programma della memoria da cui prendere i dati dentro la quale salvare i dati e quindi servono i circuiti più di memoria servono la memoria secondaria quindi i dischi rigidi il dischi all'estate solido le chiavette e servono poi tutti i dispositivi aggiuntivi la tastiera il mouse lo schermo perché se no il computer potrebbe essere la cosa più furba del mondo calcolare la cosa più bella del mondo ma se poi nessuno riesce a vederla perché non c'è uno schermo o nessuno riesce a dargli il comando di avvio perché non c'è una tastiera è un pochino troppo chiuso in se stesso sarebbe un pochino troppo chiuso in se stesso quindi di questi due chili di peso la maggior parte sono oggetti che non contribuiscono direttamente all'elaborazione ma contribuiscono all'usabilità della macchina poter scrivere poter spostare il mouse avere la batteria per farlo funzionare le luci per illuminare il display eccetera eccetera e poi c'è una piccola parte che effettivamente è quella in cui avviene l'elaborazione che è composta appunto della CPU dal processore e dalla memoria tutto il resto non serve al computer serve all'utente e questo è il motivo per cui ci sono alcuni computer dicevo prima la chiavetta per guardare Netflix non ha tastiera mouse eccetera eccetera però è un computer la parte essenziale del computer CPU e memoria ce l'hanno non hanno tastiera mouse e schermo perché quel computer è pensato per essere usato in un modo diverso quindi le periferiche di ingresso e uscita dipendono molto dall'uso che si fa del calcolatore le unità di elaborazione invece sono essenzialmente sempre della stessa natura poi può essere più potente meno potente più veloce più capiente ovviamente dipende anche poi dal prezzo e dal consumo di energia ma la natura il meccanismo di funzionamento è lo stesso quindi noi abbiamo nel nostro calcolatore questo è uno schema molto semplificato il processore detto CPU Central Processing Unit la memoria centrale e poi e questo è il cuore e poi ci sono tutta una serie di periferiche che mi permettono di collegare interfacce diciamo che mi permettono di collegare i dispositivi cosiddetti periferici che stanno fuori tastiera mouse schermi altoparlanti collegarmi alla rete rete fisica o rete wifi insomma cose di questo genere che non contribuiscono direttamente all'elaborare la fase di elaborazione ma contribuiscono alla fase di input e alla fase di output dell'informazione o alla memorizzazione a lungo termine dell'informazione stessa come dicevo avremo una lezione in cui entriamo un po' in dettaglio avanti la faremo verso la seconda metà del corso in cui entreremo un pochino più nel dettaglio sull'architettura del laboratore quindi come funzionano queste cose proviamo anche a prendere un laboratore spaccarlo e vedete qua c'è dentro quindi saranno volontari software è la parte invece di programmazione un programma è una serie di istruzioni che l'hardware quindi quei pezzettini quei componenti di prima eseguono per portare a termine un determinato compito software viene scritto da qualcuno umano in un qualche formalismo in un qualche linguaggio che il calcolatore sia in grado di comprendere i linguaggi di programmazione sono diversi sono adatti a vari scopi ma alla fine della fiera vengono tradotti anche essi in 0 e 1 in cifre binarie e vengono poi effettivamente eseguite dal calcolatore quindi noi possiamo scrivere un programma ma finché lo scriviamo rimane lì sullo schermo solamente quando facciamo quel tastino run che vi ho fatto vedere prima quel tastino di angolino verde allora in quel momento stiamo dicendo al CPU al processore esegui questo programma adesso e lui una dopo l'altra le varie istruzioni che ho scritto verranno eseguite non è così semplice perché vanno prima tradotte ma per il momento fermiamoci qua il software quindi un programma è una sequenza di istruzioni che la CPU esegue fedelmente una dopo l'altra senza capirle senza sforzarsi di capirle esegue e basta un pezzo di silicio gli dici fai questo e lo fa fine se quello che lui fa è giusto o è sbagliato dipende se il software che è scritto è corretto o è errato gli fa fare la cosa giusta o gli fa fare la cosa sbagliata lui non lo sa non se ne può accorgere l'unico che se ne può accorgere è il programmatore che l'ha scritto e quali sono queste istruzioni ma saranno istruzioni di input anche qua di calcolo delle espressioni matematiche delle espressioni di gestione dei dati aggiungi un dato cancella ricerca ordina e poi visualizza visualizza sotto forma di testo visualizza sotto forma di grafico ma quelle poi alla fine sono le operazioni che si possono fare poi in funzione del dato su cui sto lavorando se è un elenco di nomi faccio certe cose se ho un'immagine ne faccio altre se ho un video ne faccio altre ma dal punto di vista del calcolatore sono sempre dati che entrano vengono manipolati in qualche modo con qualche formula con qualche procedura e poi escono trasformati il grosso vantaggio del calcolatore è la velocità di esecuzione delle istruzioni quindi anche moltissime istruzioni possono essere eseguite moltissime nell'ordine dei milioni di istruzioni al secondo decine di milioni di istruzioni al secondo possono essere eseguite e quindi anche un compito che richiederebbe molti passaggi è quasi istantaneo spesso all'interno del calcolatore è molto veloce ma allo stesso tempo molto stupido e come dicevo esegue i comandi che gli do senza minimamente ragionarci non è che dice no ma guarda che c'è alla seconda devi mettere alla seconda non A per A più A questo lui non lo può capire c'è scritto più esegue più se non lavava le mani e quindi per costruire un programma io devo riuscire a decomporre un qualunque problema in una sequenza di passaggi di passettini elementari così elementari che il calcolatore li possa capire uno a uno quindi una cosa che a noi sembra ovvia intuitiva banale metti in ordine conta e devo dirgli come si fa devo dirgli passo passo come fare quest'operazione allora io il paragono che faccio spesso quando penso che cosa vuol dire scrivere un programma e vi chiedo di pensare magari conoscete una persona particolarmente ottusa magari avete in mente qualcuno amico conoscente questo qua c'è la capa dura devi spiegargli le cose sei volte prima che le capisca ecco pensate a una persona di questo genere rendetela cento volte più ottusa diventerebbe estenuante parlare con questa persona e dargli un compito che questa persona nella sua infinita ottusità deve eseguire correttamente quindi vuol dire che tu quel compito glielo devi spiegare in ogni minimo dettaglio perché lui da solo non ci arriva è un po' quello che dicono le donne nei confronti degli uomini in generale non ci arriva e quindi se sai che non ci arriva è colpa tua se non glielo spieghi bene se pensi che ci possa arrivare no? ogni compito anche il più semplice va decomposto di una serie di passi ciascuno dei quali singolarmente sia comprensibile da chi lo deve eseguire il nostro super ottuso il computer poi è molto ottuso il computer ma ha un grosso vantaggio che è veloce l'abbiamo già detto ma che è fedele cioè lui poi lo esegue non è che dice no questo non c'ho voglia oppure sì ma hai detto questo ma lo faccio diversamente no fa esattamente per filo per segno ciò che gli ho chiesto devo solo chiederglielo nel modo in cui lui lo possa comprendere e il modo in cui lo può comprendere è diciamolo in gergo a basso livello cioè con delle indicazioni delle istruzioni dei comandi molto molto semplici la difficoltà nella programmazione per noi è proprio questa riuscire a prendere un problema che intuitivamente sappiamo risolvere sapremmo risolvere noi umani esseri umani intelligenti capire come lo risolveremmo e tradurlo nelle informazioni nelle indicazioni da dare alla macchina finché la possa eseguire la macchina e queste indicazioni le codifico sotto forma di un programma cioè una sequenza di istruzioni il programma non è altro che una sequenza di istruzioni una dopo l'altra ciascuna istruzione deve essere scritta a livello del calcolatore in modo in cui lui la possa eseguire l'insieme delle istruzioni cioè il programma deve risolvere il problema che io programmatore ho capito ho in mente con la strategia che ho scelto con l'algoritmo che ho sviluppato il calcolatore quando vede queste istruzioni le esegue senza capirle non sa neanche cosa vuol dire capire lui sa cosa deve fare fa se fa la cosa giusta o sbagliata dipende da cosa gli ho chiesto io di fare ok e quindi questi programmi sono sequenze di istruzioni che la cpu poi eseguirà quindi quando queste istruzioni vengono date alla cpu lei una dopo l'altra le esegue un'istruzione per volta e ciò che fa può anche dipendere ovviamente anzi dovrà dipendere dai dati di ingresso cioè il programma che abbiamo visto che stampava Lorenzo lo fa perché dentro quei dati di ingresso che gli ho dato c'era una predominanza di Lorenzo e quindi le operazioni che il programma farà poi alla fine dipenderanno anche dai dati che incontra a un certo punto nel programma ci saranno delle cose diverse che farà in funzione ad esempio se c'è una sola persona con la frequenza massima oppure se c'è più di una persona con la frequenza massima beh lì dentro dovrà fare delle scelte dovrà fare delle cose diverse e quindi il flusso di esecuzione può dipendere dai dati di ingresso ma io programmatore devo averlo già previsto prima perché non so con quali dati andrà a lavorare il programma ma devo prevedere che se quei dati fanno sì che ci sia una persona sola allora il programma si comporti correttamente in quel caso se invece i dati saranno in modo tale che ci siano tre persone a pari merito beh il programma lo dovrà gestire quindi io devo averci pensato prima quindi il programma può prendere varie strade in funzione dei dati che incontra ma tutte queste strade devono essere già previste non può lui sul momento capire e arrangiarsi è un po' come scrivere una ricetta di cucina in cui ho il punto d'arrivo a cui voglio arrivare penso che a quest'ora questa slide è abbastanza crudele il punto d'arrivo a cui voglio arrivare gli strumenti che sono in grado di essere utili essere funzionali ad alcuni dei passaggi che mi servono per arrivare al punto d'arrivo e poi ho la ricetta che mi dice quali input mi servono gli ingredienti e qual è il procedimento strumento del calcolatore punto d'arrivo il problema che voglio risolvere la ricetta è il programma che io scrivo ovviamente è importante il linguaggio in cui viene iscritto questo programma probabilmente questa ricetta beh a parte proprio la decodifica della grafia ma magari ci sono dei passaggi che non sono così intuitivi fai una certa cosa e tu non sai cosa vuol dire questa cosa adesso sulla cucina forse è facile però io non so se vi è mai capitato quando dicono che la programmazione è difficile io penso sempre ai libri di uncinetto ricamo queste cose qua non so se ne avete mai visto le istruzioni di una di queste cose qua sono quanto di più geroglifico possa esistere però chi fa quel lavoro le segue tranquillamente capisce benissimo cosa deve fare perché è a conoscenza di quel linguaggio delle convenzioni di quel linguaggio e poi di come invece vengono messe in pratica le singole azioni quindi la cosa fondamentale è che le singole azioni siano comprensibili da chi le scrive e da chi le deve eseguire poi magari noi non facciamo la torta al cioccolato facciamo il videogioco di Pac-Man dove gli strumenti non sono il frullatore ma sono i computer il risultato è un videogioco e la ricetta è un programma che scriviamo in un certo linguaggio di programmazione questo non è il programma del Pac-Man è un pezzo di codice a casa o preso in giro il nostro compito è scrivere questo in modo che questo qui faccia quell'altro si comporti così noi scriviamo un programma all'interno di un file dentro il calcolatore usando un linguaggio di programmazione che è una rappresentazione convenzionale delle istruzioni al fine un file noi chiamiamo file sorgente in gergo un file sorgente è un documento un file che contiene le istruzioni scritte da noi questo file sorgente poi viene trasformato in modo da essere eseguibile dalla CPU e quindi poi il computer lo può eseguire e come abbiamo già visto prima possono esistere migliaia di soluzioni diverse per lo stesso problema tutte diverse tra di loro quindi non esiste una soluzione ne esistono molte e noi dobbiamo trovare quella migliore dove come dicevo i criteri di migliore sono tanti ma il primo è che sono capaci a far funzionare quindi programmare come abbiamo cercato di farvi capire nella loro precedente è un'attività fortemente creativa in cui devo partire dal nulla e trovare e costruire di fatto una personalità cioè un programma che si comporti in un certo modo che abbia un certo comportamento e il livello di complessità dei programmi che scriviamo è spesso molto elevato quindi si cerca sempre di andare molto per gradi molto per passaggi tutto insieme ci renderemo conto che un intero programma ma anche solo di 200 righe neanche una cosa grande è molto difficile da tenere tutto contemporaneamente in mente cioè di avere presente il nostro cervello è limitato c'è poco da fare e quindi non riesci a tenere in mente contemporaneamente tutte le possibili varianti che possono succedere in un programma anche di media complessità quindi noi scriviamo programmi il cui comportamento è più complesso della nostra capacità di comprenderli ci tocca e allora come facciamo a gestire questa complessità a pezzettini per gradi ok quindi cerchiamo di sviluppare una parte per volta un pezzo per volta di semplificare di astrarre di separare varie parti decomporre un problema più ampio in tanti problemi più piccoli e poi li risolvo uno per volta e poi dopo la fine li metto insieme dopo che li ho risolti quindi questo richiede molta disciplina non spaventarsi non perdersi non dire ok c'è questo a risolvere e comincio a scrivere codice perché sei sicuro che dopo le prime 50 righe di codice hai creato un mostro che non capisci più lui non capisce te tu non capisci lui potete vivere una vita insieme ma sviluppare gradualmente le varie funzionalità e poi raffinarle poi incrementarle poi aggiungerle farle crescere poco per volta quindi ogni gradino di complessità di per sé è gestibile ma nel complesso ho un programma che tutto insieme diciamo così in testa non mi sta quindi se è chiaro per noi all'inizio che nell'approccio diretto ho questo da fare comincio a scrivere il codice e lo faccio non può funzionare se nel programma hai più di 5-10 righe dovremo abituarci a fare un passaggio per volta è un po' la difficoltà anche questa di disciplinarci quindi passeremo dal problema cerchiamo di analizzare il problema troveremo una soluzione a parole come abbiamo fatto prima poi cerchiamo di formalizzare un po' meglio la soluzione provando a scrivere proviamo a elencare i vari passaggi può essere noiosa questa parte ma è quella che poi mi semplifica enormemente la fase di stesura del programma per e proprio perché quando comincio a scrivere il programma sono talmente concentrato sul programma stesso sul linguaggio che non riesco contemporaneamente a tenere a mente ciò che sto scrivendo con il ragionamento che ho fatto prima se quel ragionamento non me lo sono fissato da qualche parte quindi noi cercheremo di fare questo in questo corso concentrarci che è la parte difficile sui primi blocchi analizzare e sviluppare una soluzione per un problema poi impariamo anche a scrivere un programma che faccia girare che faccia funzionare questa soluzione che è la parte facile del corso cosa serve e serve imparare a pensare in un certo modo imparare a ragionare in un certo modo imparare a analizzare a svilupparsi le proprie capacità di analisi di logica di ragionamento in parte anche di introspezione ma io questa cosa qua come la farei prova a spiegarmela come se fossi stupido e queste cose qua non sono facili non sono non vengono ad alcuni vengono più spontanee che ad altre come dicevo prima questi sono i prerequisiti vi accorgete che rispetto ad altre materie non ci sono libri infiniti da studiare o pagine di calcoli da fare eccetera è più un acquisire una capacità che non imparare tante nozioni le funzioni che impareremo di python ci stanno in tre pagine lo so perché abbiamo fatto un formulario di tre pagine che vi diamo poi per l'esame dove c'è il riassunto di tutte le funzioni e le parole chiave che vi serve sapere quindi è proprio una cosa minima però è come usare le cose io ho dieci dita sono solo dieci ma quante cose può fare un pianista con dieci dita non sono le dita che contano no? è le combinazioni in cui li puoi incrociare noi impareremo un po' a pensare come pensa un computer ma non tanto per diventare scemi anche noi ma per riuscire a relazionarci a riuscire a parlare a istruirlo e la buona parte del lavoro come vi dicevo quando ho detto prima il computer lo accendiamo solo adesso la buona parte del lavoro è prima carta e penna ho disegnato oppure io in realtà quando programmo lo vedremo insieme quando facciamo esercizi tendo a già aprire un file in cui scriverò il programma ma come prima cosa scrivo i commenti qui faccio questo qui faccio questo poi ci ragiono su questo che è un testo libero un po' come abbiamo fatto prima con il blocco note e poi poco per volta traduco quello in codice ma quello è il modo che ho trovato io di lavorare va bene per me ciascuno ha una propria mente un proprio modo di lavorare un proprio metodo di studio e troverà il modo diciamo così in cui si trova meglio però non ci sono scorciatoie alla fine si passa comunque da un ragionamento abbastanza profondo abbastanza denso e la cosa che all'inizio risulta forse più difficile è pensare che il calcolatore ha una memoria limitata non dico limitata come quantità ma limitata come elenco delle informazioni che voglio che gestisca cerco di spiegarmi quando io prima dicevo facciamo i gruppi di nomi ho detto una cosa noi abbiamo in mente un gruppo di nomi consecutivi che siano coincidenti nella nostra mente ce lo visualizziamo ce lo pensiamo da qualche parte e il calcolatore non basta dirgli devo dirgli sì ma questa cosa qua dove la metto devo per ogni informazione avere un'informazione esplicitare dove questa viene memorizzata dove viene salvata in certo senso in modo da poterla poi riprendere dopo allora lì cosa salvo salvo un elenco di nomi tutti uguali mi serve solamente un numerino che mi dice quanti sono quindi anche non solamente in termini di operazioni da fare devo scendere al livello del calcolatore ma anche in termini di rappresentazione dei dati prima quando ho scritto metto i dati in una tabella sono già abbastanza vicino a cosa il calcolatore può fare perché ci sono poi dei metodi per memorizzare le tabelle le matrici le chiameremo quando ho detto metti in ordine dei nomi sto pensando che questi nomi sono in una lista quindi da qualche parte devo aver memorizzato questa lista eccetera ciò che noi facciamo a mente ma anche quando pensiamo alla matematica quando io scrivo x qua sulla lavagna in matematica quella x ha tutti i valori contemporaneamente in un calcolatore una x ha un valore solo in un certo momento poi lo vedremo quando parleremo di variabili e quindi se mi servono due valori mi servirebbero due variabili no ma sì ma chiamalo sempre x no devo essere esplicito anche su questo quindi a volte ci vengono in mente dei metodi di soluzione ma poi non sappiamo come rappresentarli quindi un modo il problema di allenarci è proprio di dire esplicitamente ok allora il calcolatore adesso salva questa informazione e io devo facciamo l'esempio dell'ottuto di prima dargli non solo le indicazioni ma anche un foglio di carta su cui lui deve scrivere i nomi alla riga 1 scrivi questa cosa alla riga 2 scrivi quest'altra cosa sapendo che tutto ciò che non è scritto in questo foglio dei dati lui non lo può sapere la macchina non la può sapere non la può conoscere quindi io devo prevedere quali sono tutti i dati di cui ha a disposizione e questo questa fase di formalizzazione si formalizza attraverso quelli che in modo famoso sono chiamati algoritmi che è l'unico parolone che useremo nel corso che ormai si usa a sproposito per qualunque cosa ma degli algoritmi sappiamo usarli sappiamo che cosa sono da quando avevamo 4 anni che riuscivamo a montare i Lego è una sequenza di passi per arrivare a un certo risultato ciascun passo in questo caso mi fa vedere quali sono i dati gli elementi su cui lavorare e l'operazione da fare prendi due di questi e uno di questi e agganciali in questo modo quindi questo è un linguaggio di programmazione dove le operazioni sono prendi e aggancia e gira capovolgi e poi un po' di geometria 3D per farti capire dove devi agganciarlo questo è un linguaggio di programmazione dove i computer siamo noi che eseguiamo le operazioni nell'ordine specificato con gli ingredienti specificati con le azioni specificate se no viene una schifezza non viene fuori il Lego che ci interessa e in queste istruzioni in questo caso è un linguaggio visuale non è un linguaggio testuale come potrà essere il linguaggio Python ma ha delle regole ben precise le operazioni sono numerate 1, 2, 3, 4, 5 non le puoi fare in un ordine diverso puoi farle ma non viene fuori una schifezza ogni operazione magari divisa in sotto operazioni ad esempio vedete questo il passo 5 comprende un sottopasso per comporre questo senti a parte fatti questo quando l'hai finito mettilo qui questo è il concetto di funzione in cui metto isolo una parte di programma per fare una certa funzionalità e poi quella lì la uso come se fosse un'operazione unica dove mi serve non in questo esempio ma c'è il concetto di ripetizione questa cosa falla tre volte prepara le quattro gambe del mostro tutte e quattro uguali ad esempio usando sempre le stesse operazioni ecco programmare non è diverso da questo ok la differenza è che noi programmiamo con cose più astratte qui non sono il singolo pezzettino di lego di cui ne ho sette e quindi non è che se me ne chiede otto vuol dire che ho sbagliato qualcosa ma sono dei dati astratti delle stringhe di testo dei numeri quindi lavorando con informazioni più astratte ci richiede uno sforzo maggiore perché dobbiamo ovviamente dare istruzioni più astratte poi c'è questa cosa qua che si dice come battuta sulla flessibilità mentale degli informatici questo è un esempio di un'istruzione che tu potresti dare a una persona per favore caro esci vai al supermercato e prendi una bottiglia di latte se ci sono le banane prendi sei prendine sei ok è un'istruzione poi in realtà la 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 sei bottiglie di latte e dice ma perché è perché c'erano le banane non fa ridere ovviamente gioca sull'ambiguità di questo sei sei lui l'ha capito riferito a una bottiglia oppure sei bottiglie il buon senso dice che sei dovrebbe essere riferito alle banane ma questa frase è sottilmente ambigua e è quello che ci frega in realtà non è ambigua se tu lo leggi con la mente di un ottuso è perfettamente corretta se tu lo leggi con la mente di una persona con un minimo di buon senso vuol dire una cosa completamente diversa e qui poi dove cascano molti dei nostri errori perché noi leggiamo le cose con il buon senso ma io ho detto ho scritto questo no guarda quello che hai scritto tu non è quello che pensi di aver scritto perché lui non è che può capire ciò questo quello che hai scritto quello che gli hai detto in realtà è diverso prova a leggerlo come se fossi stupido capisci cosa fa quindi noi costruiamo algoritmi cioè costruiamo soluzioni passo passo per risolvere i problemi algoritmi quindi sono una sequenza di passi un passo solo non è un algoritmo fai una cosa va bene prendi questa bottiglia e spostala qui non è un algoritmo è un'azione ma se io ho delle regole che mi permettono di dire che cosa devo fare con quella bottiglia allora una serie di passi una serie di regole che sono pensate per essere eseguite in sequenza o in modo ordinato non a caso nell'ordine cui ho specificato una sequenza si dice qui non l'ho scritto finita di azioni cioè un algoritmo non è mai una cosa infinita che non finisce mai una cosa che a un certo punto deve produrre un risultato quindi devi eseguire queste azioni e poi a un certo punto fermarti perché hai raggiunto il risultato una sequenza di azioni è una cosa appunto molto astratta che noi ci aiutiamo nelle fasi iniziali di ragionamento ci aiutiamo a ragionare a sviluppare aiutandoci con dei con degli artefatti concreti cioè un blocco note se è una penna proviamo a segnarsi i punti un blocco note in cui scrivo le cose un diagramma di flusso che vedremo vedete nella video lezione sono degli strumenti che ci permettono di avere davanti agli occhi più informazioni di quante non riusciamo a tenere in testa e in modo esplicito perché poi magari in testa tu pensi tante volte pensi di aver capito una cosa poi quando lo scrivi ti accorgi che potrebbe essere diversamente oppure intuitivamente in momenti diversi pensavi sfumature diverse dello stesso concetto invece mi devo obbligare a descrivere questa sequenza di passi in una maniera non ambigua vista con gli occhi dell'otturo non vista con gli occhi dell'intelligente l'ambiguità eseguibile cioè fatto di azioni le quali ciascuna singolarmente possa essere eseguita da chi la deve eseguire in questo caso il calcolatore è finito appunto prima o poi deve terminare una cosa che all'inizio è un pochino difficile per chi non ha mai visto un linguaggio di programmazione è capire quali sono le azioni eseguibili dalla macchina e quali no però possiamo partire dall'idea che tutte le operazioni matematiche tutte le operazioni di confronto di scelta maggiore minore lettura scrittura di dati sono operazioni di base della macchina poi ce ne saranno altre che arriveranno e quindi su queste le possiamo usare cose più complicate invece non le possiamo descrivere ad esempio ci sono alcune procedure che sono banali perché sono puramente sequenziali calcolare calcolare l'area di un cerchio pi greco era la seconda devo applicare una formula leggo il valore del raggio a parte che quello è ambiguo perché calcolare l'area del cerchio a partire da cosa? dal raggio dal diametro dalla lunghezza della circonferenza dal quadrato in cui è iscritto bisognerebbe scrivere quindi non ci stava nella slide però applico una formula io so risolvere il problema non il computer e al computer do la formula per farlo se io non sapessi l'area del cerchio non c'è computer che tenga trovo la lunghezza di ipotenusa vabbè formula di Pitagora io non io Pitagora lo sapeva risolvere noi diamo semplicemente al computer la formula di Pitagora l'equazione di secondo grado io lo so risolvere voi lo sapete risolvere questo è un tipo di algoritmo che analizzo nella lezione su diagrammi di flusso di cui c'è il video quindi andiamo a sviluppare sviluppare un diagramma di flusso che è una presentazione grafica dell'algoritmo per il problema dell'equazione di secondo grado quindi non la facciamo adesso insieme la facciamo insieme nel video invece possiamo provare a ragionare insieme sul massimo comune divisore tra due numeri che è la tipica cosa che a scuola sapevate ma non vi è mai fregato niente quindi non sapete più come si calcola il massimo comune divisore tra due numeri o il minimo comune multiplo no massimo comune divisore mcd cos'è? è vabbè dice la definizione apro il libro è il più grande numero divisibile no per cui sia divisibile entrambi i numeri dati quindi il massimo comune divisore tra bo 10 e 12 e 2 perché non c'è nessun numero più grande di 2 che sia contemporaneamente che divida contemporaneamente sia il 10 che il 12 giusto? lo sappiamo fare abbiamo fatto a scuola e come ci hanno insegnato a calcolare il mio massimo condivisore a scuola in un modo totalmente assurdo ti dicono prendi un numero calcola tutti i suoi fattori primi e già li ci mettevi 20 minuti l'altro numero calcola tutti i suoi fattori primi fai fare la scomposizione univo con i fattori primi e poi prendi quelli comuni con l'esponente più basso esatto e li moltiplichi tra di loro ecco questo è un metodo una strategia dicevamo di calcolo dell'MCD che non consiglierei per un algoritmo che debba calcolare questo perché già mi schianto sul primo punto trova i fattori primi lo faremo come uno di esercizi di laboratorio calcolo dei fattori primi ma è più difficile calcolare i fattori primi che non calcolare l'MCD perché? ma perché basta dove siamo? blocco note che è proprio il massimo dell'informatica se devo calcolare l'MCD tra due valori tra due numeri A e B cosa dice la definizione? la definizione dice che è quel valore x che divide sia A sia B ed è il massimo più possibile più grande possibile allora qui ho due proprietà da verificare divide sia A sia B per cui 3 può essere l'MCD tra 10 e 12? no semplicemente perché 3 non è un divisore del 10 1 può essere l'MCD tra 10 e 12? può darsi è un divisore del 10 è un divisore del 12 chi lo sa se è il più grande? è il più grande se non ne trovo di più grandi di lui per cui la versione dell'allievo che non ha studiato niente a scuola e gli chiedono l'MCD tra 10 e 12 e non sa fare i numeri primi ma si ricorda questa definizione e dice senti tra 10 e 12 10 e 12 sono numeri piccoli li provo tutti provo tutti i numeri tra 1 e 10 e vedo quale di questi numeri tra 1 e 10 divide sia A che B e quello sarà il mio X quindi è un modo completamente diverso rispetto dall'applicazione della formula matematica però sfrutto il fatto che fare questa verifica può essere facile ed è veloce ed il calcolatore è veloce a fare molte operazioni quindi probabilmente passare dalla scomposizione in fattori primi è il metodo più intelligente più generale eccetera eccetera ma magari un metodo anche più stupido mi può servire se non devo prendere dei numeri A e B che siano nell'ordine di 10 miliardi quindi devo provare troppi tentativi quindi cosa faccio posso dire partiamo da 1 e poi far verifica se X divide sia divide A e X divide B vedete che già sto cominciando a diventare più pedante non dico divide sia A che B ma dico X divide A e poi X divido B quindi sto già dicendo verifica se è vero che X divide A divide A intendo che appunto divide senza resto e X divide B questo può essere sì o no ma X è uguale a 1 per la proprietà dell'1 di sicuro è sì però ragioniamo in generale allora se sì allora l'MCD vale X per quanto ti so dire finora cioè ti sto dicendo se 1 è un divisore di A e 1 è un divisore di B allora il massimo comandivisore è 1 che non è tutta la verità ma è la verità che ti posso dire avendo visto solamente l'1 poi provo con X uguale a 2 e faccio la stessa verifica poi provo con X uguale a 3 e faccio la stessa verifica allora nel caso in cui i numeri A e B siano 10 e 12 come abbiamo detto prima nel primo caso alla riga 7 la verifica ha esito positivo e quindi il MCD viene posto uguale a X cioè 1 poi vado avanti metto X uguale a 2 alla riga 9 alla riga 10 verifico se il 2 divide 10 e il 2 divide 12 sì e quindi il MCD viene posto a 2 quindi vado a perdere dimenticare il valore vecchio di MCD quello che avevo impostato alla riga 7 pari a 1 e lo sostituisco con un valore più furbo perché ho imparato qualcosa di meglio alla riga 11 impostandolo uguale a 2 quindi alla riga 11 la migliore cosa che posso dire dopo aver provato con 1 e con 2 è che l'MCD vale 2 poi vado avanti ovviamente andando avanti se ne troverò di migliori cioè di maggiori in realtà di X più maggiori di questo li sostituirò immaginiamo il nostro amico Ottuso che ha un foglio di carta in cui c'è una casellina che si chiama X e una casellina che si chiama MCD tu prendi X e fai quest'operazione se l'operazione ti quadra tu devi prendere quello che c'è di X e mettilo nella casellina MCD cancellando quello che c'era prima sotto questo abbiamo scritto qua prendi ciò che c'è scritto nella casellina X e ricopialo nella casellina MCD se c'era già qualcosa in quella casellina lo cancelli lo butti via e ci metti questo sopra lo sovrascrivi lo sostituisci questi sono i due dati su cui lavora questo algoritmo finora poi X uguale 3 verifico se 3 divide 10 no e 3 divide 12 sì è vero che 3 divide 10 e 3 divide 12 no ne divide uno solo dei due non entrambi quindi per la prima volta non faccio questo perché mi dice di fare sostituire X e copiarlo nel MCD solo se la condizione precedente è verificata e non lo è in questo caso e quindi l'MCD alla riga 16 quanto vale? due perché non l'ho messo a tre non l'ho messo a tre perché tre non è un divisore comune quindi non vado a sporcare un due che è un divisore comune con un tre che non lo è questo è un modo di procedere e quindi vado avanti ovviamente dovrò farlo per valori crescenti in modo che parto con i valori con divisori comuni più piccoli e man mano che vado avanti se ne trovo quelli che troverò saranno più grandi e quindi vinceranno su quelli più piccoli perché mi serve il massimo come un divisore se partissi da quelli più grandi e andassi all'indietro non funzionerebbe o meglio se partissi da quelli più grandi il primo che trovo era lui se partissi da 10 e andassi all'indietro provo con 10 provo con 9 provo con 8 provo con 7 contro con 6 il primo che trovo è già al massimo con un divisore forse sarebbe anche in modo più furbo un mannaggia non ci ho pensato vabbè ho cominciato così vado avanti così e questo è un algoritmo che calcola l'MCD di due dati A e B che riceviamo in input usando una variabile di appoggio un valore di appoggio che chiamiamo X il problema è che è un esercizio di pazienza di copia e incolla perché in generale io non so quanto valgono A e B quindi A e B potrebbero valere 1370 e 12809 quindi se volete vi mettete lì fate copia e incolla fino a 30.000 fino a 200.000 con tutti i valori X X X X X tanto da un certo punto in avanti sicuramente quelle condizioni saranno false perché quando X diventa maggiore di A o maggiore di B di sicuro non è un divisore però avevo un programma lì ho fatto un programma di 30.000 istruzioni è vero ma magari c'è un modo più furbo questa è una frase chiave gli informatici ce l'hanno sempre in testa magari c'è un modo più furbo e dove con furbo intendiamo che mi fa lavorare di meno perché se non siete pigri non siete informatici è quello che ci manda avanti l'assoluta pigrizia magari perdiamo 10 ore per risparmiare un lavoro di 20 secondi però cacchio non l'ho fatto io l'ho fatto fare al calcolatore quindi c'è un modo di collassare questa cosa qua in meno istruzioni sì posso dire guarda senti ciccio ripeti sta roba tante volte ripetila con valori crescenti di x però così non vuol dire niente ricordiamoci che siamo siamo di fronte degli ottusi e quindi quello che potrei dire è una cosa di questo genere ripeti questo blocco qua e poi incrementa x cioè fai x uguale a x più 1 e basta allora questo ripeti cosa sto facendo ciò che sto scrivendo si chiama pseudocodice cioè è scritto in italiano ma è scritto in modo ordinato e rigido con un linguaggio semplice non ambiguo in gergo si chiama pseudocodice io nello pseudocodice uso la convenzione di rientrare gli elementi per dire ok la riga 9 è ciò che devo fare se la verifica avviene positivamente la riga 10 la faccio comunque vedete che non è rientrata sotto la riga 9 è dipendente dalla 8 la riga 10 invece è indipendente è successiva viene fatta dopo penso sia abbastanza intuitivo questo modo di lavorare a me piace io mi ci trovo facilmente perché scrivo sulla tastiera in modo più veloce e più ordinato che con la penna è il mio problema questo ripeti sarà una parola chiave un ordine che dice quello che segue quello che è annidato rientrato rispetto alla parola ripeti rifallo dopo che l'hai fatto rifallo un'altra volta allora se io parto con x uguale a 1 quando arrivo qui controllo l'1 e metterò mcd uguale a 1 poi mi predispongo per ripetere ma quando lo ripeto dovrò avere x uguale a 2 quindi mi verrebbe da dire qua sotto non guardate questa riga scrivere x uguale a 2 fallo con 1 poi metti x uguale a 2 e ripeti e ho capito però poi dopo che l'ho fatto con 2 devo mettere 3 quindi qui non ci posso mettere prima di tornare a ripetere un valore costante ma devo capire la regola con cui creo questi valori qual è la regola con cui prima scrivo 1, 2, 3, 4, 30.000 e ogni volta l'aumento di 1 ok anziché aumentarmelo io a mano me lo faccio aumentare da lui quindi dopo che hai provato con un valore x aumenta quell'x di un'unità quindi questo parte da 1 e prova tutti gli x e alla fine verrà scritto salvato nella variabile mcd esattamente l'mcd di quei due numeri un divisore comune perché verifica la condizione della riga 8 e il massimo divisore comune perché è quello che ho trovato dopo questo è un algoritmo no perché non termina ripeti fino a quando scritto così ripete l'infinito quindi tra infiniti anni sapremo quanto vale l'mcd che può essere utile ma un po' in ritardo allora io devo dire ripeti non per sempre ma ripeti finché cioè devo dirti devi andare ancora avanti oppure devi fermarti qual è l'informazione che mi fa dire se devo andare avanti o se mi posso fermare cioè se x vale 100 devo ancora andare avanti dipende da A e da B e dipende quello vuol dire allora qua ci sono tante sumature possibili la più semplice è che dice x è minore di A e x è minore di B cioè se x è più piccolo sia di A che di B e allora vado ancora avanti se è più grande di A se arrivo a 11 non ha più senso andare avanti perché ho già superato il valore di A anche se non ho ancora superato il valore di B quindi io mi fermo quando x è pari al più piccolo tra A e B è un altro modo di dirlo poi uno può fare più sofisticato e dice no ma io basta che mi fermi a metà perché tanto dalla metà in poi da 5 in avanti non posso trovare il divisore di 10 ok e poi ci arriva l'altro più figo ancora e dice no ma basta fermarsi alla radice quadrata di A e di B sì è tutto vero si può raffinare si può migliorare radice quadrata più uno è il limite matematicamente corretto oltre al quale sei sicuro di non trovare divisori ma chi se frega fargli fare 10 identativi o fargli ne fare 4 tanto li fa lui in altri casi ce ne frega quando i dati sono più grandi però e quindi alla fine stampa il valore dell'MCD che hai calcolato allora questo è un algoritmo è corretto è sbagliato beh ci sembra giusto ma è sempre così eh quando fai le cose ti sembrano sempre giuste sai che quando fai un esercizio di matematica se ti accorgi che a un certo punto c'è un passaggio che ti esplode non si semplifica niente e dici no c'è qualcosa di sbagliato no oppure se arrivi al fondo e fa meno 1 quando il risultato doveva fare è impossibile ti accorgi che hai sbagliato qui non c'è nulla che ti dica che hai sbagliato siamo noi che adesso ce lo guardiamo ce lo leggiamo proviamo metterci dentro due valori diversi di A e B 7,20 100,99 quello che volete e possiamo provare ad eseguirlo a mano per capire se funziona correttamente quando siamo o ragionarci sopra quindi in senso astratto oppure in senso operativo quando saremo convinti che funzionerà potremo imparare a tradurlo in Python e farlo eseguire farlo calcolare dal computer vero e proprio che è ciò che faremo a partire da lunedì vi ricordo la video lezione che è caricata che dovrebbe essere stata pubblicata adesso comparsa online adesso svolge l'algoritmo dell'equazione di secondo grado usando i diagrammi di flusso se voi preferite usare pseudocodice o diagrammi di flusso è una vostra preferenza alla fine sono due strumenti diversi per fare la stessa cosa ragionare sui passaggi di un algoritmo arrivederci a lunedì